Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Truffavano lo Stato dichiarando la falsa presenza di ospiti stranieri nei loro centri di accoglienza. I poliziotti della squadra mobili di Ancona, seguito di un'indagine per truffa ai danni dello Stato avviata nel 2021, che coinvolgeva sette dipendenti di una cooperativa onlus, ha eseguito tre misure cautelari personali dall'interdizione temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di dieci mesi. La cooperativa onlus si occupava prevalentemente dell'accoglienza dei migranti nell'ambito di contratti di appalto e convenzioni stipulate con diverse prefetture, tra le quali quelle di Ancona. L'indagine ha fatto emergere che le sette persone indagate, tra cui il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione della società, il suo vice e altri cinque, registravano la presenza degli ospiti stranieri inesistenti presso i centri di accoglienza di Ancona, gestiti dalla loro cooperativa. I centri ottenevano quindi l'indebito pagamento da parte della prefettura della somma pari a quasi 30 euro al giorno per ogni ospite segnalato come presente. Gli investigatori, dopo alcune perquisizioni, hanno sequestrato materiali e prove a supporto di quanto già emerso nelle precedenti fasi di indagine. Tra le varie misure cautelari è anche il sequestro preventivo di cinque immobili ad Ancona, adibiti a centri di accoglienza straordinari ai cosiddetti CAS, nonché i relativi beni mobili.